A margine sono i genitori dei ragazzi che frequentano le scuole molisane a porre la domanda al Ministro Fedeli. Quante scuole sono antisismiche? E' il venir meno degli studenti? E' proprio per essere al passo con il territorio e soprattutto con le esigenze dei cittadini, a margine della visita del Ministro Fedeli, abbiamo raccolto così per strada alcuni pareri, umori, dei genitori preoccupati perché i loro figli vanno in scuole, la maggior parte per non dire il totale non sicure, non al limite dell'antisismica, con molti problemi anche strutturali di questi edifici. E allora questi genitori così preoccupati, ma ciascuno di noi, se qualcuno ha chiesto, ha detto al Ministro Fedeli che la situazione della pubblica istruzione e soprattutto di scuole sicure, di questa necessità di investimenti, che debbono essere fatti e garantiti sulle scuole e soprattutto per dare la sicurezza ai ragazzi che frequentano i nostri plessi scolastici. Poi in Molise c'è anche il problema della dimensione scolastica e quindi del dimensionamento delle classi, molte ne sono state già tagliate e altre per il rischio dello spopolamento dei nostri piccoli comuni rischiano di saltare con il prossimo anno scolastico. Tutti i problemi che qualcuno avrebbe dovuto dire al Ministro della pubblica istruzione Fedeli. Il Molise forse è un caso particolare? Noi non crediamo. La situazione della pericolosità delle scuole e dell'ammancato adeguamento antisismico dei plessi scolastici crediamo che appartenga a buona parte del territorio italiano. Da noi forse è ancora più sentito per il terremoto del 2002 di San Giuliano di Puglia. Beh, noi ci auguriamo così come si augurano i genitori dei ragazzi cittadini molisani che qualcuno al Ministro Fedeli abbia rapportato questa situazione, abbia detto cioè quale lo stato di salute dei plessi scolastici del Molise. E questa è un'esigenza che crediamo prioritaria e ci auguriamo che qualcuno l'abbia detto, altrimenti ce lo diciamo noi a nome dei cittadini molisani al Ministro Fedeli che queste cose vanno viste e soprattutto vanno messi i soldi perché senza soldi investimenti non se ne possono fare.